La Fondazione Bracco ha tra i suoi progetti principali proprio il contrasto agli stereotipi e in particolare quelli di genere perché ritiene sia un compito di una fondazione d'impresa in questo caso poter creare una maggior uguaglianza nella società e in particolare permettere alle ragazze e alle giovani donne di entrare in quei settori in cui oggi ancora c'è una sottorappresentazione perché questo rappresenta proprio un progresso per la società se pensiamo ad esempio agli studi delle materie tecnico-scientifiche, le cosiddette materie STEM un maggiore studio delle ragazze, una maggiore partecipazione al lavoro diventa un incremento proprio statisticamente provato del PIL nazionale e quindi un progresso economico ma anche sociale della società e quindi noi come fondazione d'impresa, come fondazione Bracco, crediamo che valorizzare l'expertise femminile e cercare di contrastare e destrutturare quelli che sono i bias della nostra società che hanno una origine culturale, un'origine familiare, insomma nella società in cui noi apparteniamo non abbiano più ragione di essere perché ci sono pari opportunità per tutti, ragazzi e ragazze, uomini e donne Grazie a tutti